Ok, allora passiamo ad altri argomenti. Argomenti più propri a questa trasmissione. Io di argomenti ne ho più di uno. Ho visto un fax, parlateci un po' per cortesia potresti spiegarmi il vostro pensiero di pagani? Voi che dite che Gesù è stato un infame. Sì, il problema non è che il Gesù è stato un infame. Gesù, come dicono i Vangeli, non è mai esistito. Ciò che scrivono i Vangeli descrivono un infame assassino e criminale che ordina di ammazzare le persone, di distruggere la vita, di distruggere le società civili. Questo è il pensiero che ne emerge dai Vangeli. Ed è effettivamente un infame, un assassino. E tutta la pratica, tutta la pratica della Chiesa Cattolica, tutta la pratica conseguenziale è una pratica da criminale ed assassini. Pertanto, non c'è alternative. Il problema è che i cristiani coltivano l'ignoranza come unica forma di relazione fra sé e il mondo. L'ignoranza, cioè la non conoscenza delle relazioni fra l'uomo e il mondo, dei cristiani, è un elemento dogmatico, cioè è un elemento della loro dottrina. Se voi vi leggete Paolo, una delle sue lettere diceva che fighi che siamo noi, che siamo così ignoranti e così stupidi, e che Dio ha scelto noi che siamo ignoranti e stupidi per mettere in imbarazzo i sapienti e i potenti. Sì, in pratica, noi, dice Paolo, facciamo il mobbing e cerchiamo di distruggere la società civile per renderla ignorante come noi. E questo è di una gravità non indifferente. Allora, sì, proprio perché i cristiani praticamente non conoscono nemmeno i loro Vangeli, ma essenzialmente, e non sto parlando del cristiano a livello basso, sto parlando anche del cristiano laureato, cioè del cristiano che ha anche delle funzioni istituzionali, bene, sputa sulle stesse funzioni istituzionali per imporre principi propri criminali che sono principi di Vangeli o della Bibbia. Cioè, noi abbiamo delle cose veramente da fuori testa, da esaltazione del genocidio all'ordine dell'omicidio, alla distruzione, al disprezzo degli altri. Cioè, abbiamo tutta una serie di elementi dottrinali che sono presenti nei Vangeli e che nella storia sono stati tradotti in veri e propri atti di terrore, in veri e propri atti di genocidio. Ora, io capisco benissimo che dall'avvento dell'illuminismo ad oggi il cristiano non è più quello di prima, lo so perfettamente questo, ma non è che il cristiano non è più quello di cento anni fa, duecento anni fa, perché ha cambiato i propri principi. Ma non è più quello di allora perché la società civile gli impedisce di applicare quei principi. È tutto là. Cioè, la società civile ha messo in alto tutta una serie di rivolte rispetto al cristianesimo per applicare principi diversi. Pertanto, il cristiano è sempre il macellare un assassino, un terrorista, un delinquente, solo che la società civile gli dice che se tu fai queste cose vieni perseguito a livello di legge. Cioè, queste cose non le puoi più fare. Questo è che è cambiato. Cioè, è cambiata la rivolta della società civile rispetto all'orrore assassino del cristianesimo. Non è assolutamente cambiato il cristiano. Il cristiano è sempre quello che macella le persone assolutamente indifese. Naturalmente, questo ha portato anche a un cambiamento dottrinale di relazione del cristiano con la vita. Guarda, fatalità, ho qui sotto mano un articolo del 1 settembre 2005 della Repubblica che parla di un saggio di Marina D'Amelia e che demolisce uno stereotipo dell'identità italiana, il mammismo. La madre debordante, salvifica, ma anche opprimente, è un mito inventato negli anni 50. Tra tutti gli stereotipi che segnalano l'identità italiana, ce n'è uno eterno e indistruttibile, la mamma, o meglio il mammismo, la tirannide della grande madre mediterranea, salvifica e doprimente, protettiva e persecutoria, cercata d'amore, è perciò pronta all'intrigo, tutta sentimentale e niente ragione, in ogni caso debordante, con una vittima privilegiata e consenziente, il figlio maschio. Da De Filippo ad Alvaro, da Visconti a Parise, da Levi a Salvino, negli anni 50 cinema e letteratura hanno insegnato una mitografia che tuttora resiste, una figura dello spirito italiano che oggi attraversa le pagine non della ficzione ma dell'assai più fantasiosa cronaca finanziaria, con madre governatore che devotamente sovrintendono su soldi ed affetti. A questo dunque devono rassegnarsi le mamme italiane, è un ritratto non tra i più esaltanti della ricca fenomenologia del materno. Viene loro in soccorso un nuovo meditato saggio di Marina D'Amelia, storica moderna, che già si è misurata con impervio tema, è sua una letterziana storia della maternità. In questo nuovo, la mamma, pubblicato dal murino nella collana dell'identità italiana, la D'Amelia rovescia un luogo comune, apparentemente inattaccabile o meglio lo storicizza, riducendolo al frutto di un'invenzione che affonda le sue radici negli anni 50, una reinvenzione della tradizione che rompe con la storia precedente. Perché le mamme d'Italia, quelle risorgimentali, loro figlie d'età liberale, le genitrici di formazione positivista o le spose cattoliche, che le donne del nuovo ordine mussoliniano o le combattenti dell'Italia a ferro e fuoco, niente hanno a che vedere con cui allontana nipote, così come furono rappresentate nel secondo dopoguerra, madri istintive e strabordanti, animaleschi e un po' irresponsabili, pronte a proteggere i cuccioli al di là della legge, dunque causa prima della tradizionale amoralità italiana. Così le ritrasse nel 52 Corrado Alvaro, con gli attori del termine mammismo, spogliate dell'intento del precatorio, le sue pagine sono la spia di un sentire comune in un'Italia ancora traumatizzata dalla guerra e la ricerca di nuovi miti unificanti. E tutto questo naturalmente viene a inestarsi su quella che è l'iconografia cattolica. In pratica una madre che non è mai esistita, c'è un modello di madre che non è mai esistito, viene costruito di sana pianta e reinventato e diventa un modello che sembra che sia quasi naturale. Ebbene, questo modo di essere appartiene al cristianesimo. Di volta in volta ti inventa le cose, cioè ti inventa una madre di un certo tipo, una relazione di un certo tipo. Vi ricordo che negli anni 50 questa cosa, questa costruzione del mammismo, fu favorita dalla cosiddetta Madonna Pellegrina, cioè la paura dei comunisti in pratica negli anni 50 fecero scorgere, fecero vedere madonne da ogni parte d'Italia. E c'era questa Madonna che appariva un po' a tutti in giro per l'Italia. E questo fu praticamente il modello di madre che venne spacciato, venne spacciato come una dose di eroina, né più né meno. Però è una cosa imposta educazionalmente, non è una cosa naturale, perché non esiste quel modello di madre. Quel modello di madre è una depravazione educazionale a cui gli individui purtroppo sono costretti a sottomettersi, data quella criminale assassina che è la Madonna dei Cristiani. Perché questa è veramente qualcosa di aberrante. Ricordate quanti drammi e quanti traumi psichici ha imposto sui ragazzi il discorso della figa vergine. È veramente infame. È di uno squallore veramente. Cioè effettivamente tutte le persone avrebbero il diritto di bestemmiare contro questa stramaledetta figura. Perché è vergognoso quello che i cristiani hanno fatto ispirandosi con un'immagine così aberrante, così obrobriosa, così infame come la loro Madonna. È un insulto alla società civile, un insulto alla Costituzione, un insulto a quelle che sono le regole del vivere civile. E il cristianesimo è questo, cioè il cristianesimo è orrore e morte. Ed è orrore e morte proprio perché i Vangeli, i Vangeli cristiani spingono l'orrore e morte. Chiaramente non tutti i cristiani riescono a praticare l'orrore e morte, però di fatto continuano a mettere in atto delle azioni che sono assolutamente avversive, che sono terroristiche, che sono azioni finalizzate alla devastazione del sistema sociale. Prendiamo un piccolo trafiletto della Repubblica di mercoledì 21 settembre 2005. E leggiamoci un po' il significato sociale e giuridico di quello che dice questo trafiletto. Usa, lo scandalo preti pedofili, niente processo per il pontefice e capo di Stato. Il governo americano ha fatto sapere a una corte del Texas di ritenere non processabile il Papa Benedetto XVI in quanto immune per il suo rango di capo di Stato. Tre presunte vittime di molestie sessuali da parte di un seminarista di Houston avevano chiamato in causa il pontefice accusandolo di aver coperto la vicenda col suo operato quando era ancora il prefetto della congregazione per la dottrina della fede. Il giudice Lee Rosenthal, che presiede la causa legale a Houston, non si è per il momento pronunciato, ma il giudizio sulla non processabilità da parte del rappresentante del governo, il vice procuratore federale Peter Kaiser, sembra destinato a orientare l'esito del processo. Nel 1994 una causa analoga, avviata sempre in Texas contro Papa Giovanni Paolo II, fu chiusa dopo che il governo si era pronunciato in modo simile. Nel proprio parere il procuratore Kessler ha indicato che la carica di capo dello Stato Vaticano assunta adesso dall'ex cardinale Joseph Ratzinger rende il procedimento giudiziario incompatibile con gli interessi di politica estera degli Stati Uniti. Gli interessi di politica estera degli Stati Uniti. Cioè praticamente gli Stati Uniti sono pronti a bombardare Panama per prendere Noriega a distruggere praticamente un intero paese e sono disponibili a far stuprare i loro bambini da Ratzinger con lo stesso metodo. Cioè praticamente è il peso delle misure degli interessi nazionali. Cioè dove c'è l'interesse nazionale del petrolio sono pronti a bombardare. Dove c'è l'interesse nazionale della coercizione sono pronti ad appoggiarlo. Ora io non entro nelle questioni della... Scusate un attimo, solo un attimo. Scusate solo qua. Io non entro nella questione di politica estera degli Stati Uniti. Entro in una questione di società civile. Cioè nella nostra società civile, per la nostra Costituzione, per le nostre regole sociali, non esiste nessun soggetto che si possa sottrarre alla legge. Esistono delle possibilità per cui lo Stato non metta in atto dei procedimenti penali. Per esempio il concordato permette ai cristiani di fare dei reati gravissimi, molto gravi, purché quei reati siano circoscritti alla loro confessione. Purtroppo i cristiani i cui reati li estendono alla società civile e i magistrati purtroppo non procedono, venendo meno i loro doveri d'ufficio. Tanto per essere chiari. E il problema grosso, il problema veramente grosso, è che non esiste nessun soggetto che si possa sottrarre alla legge. Solo nel cristianesimo esistono i soggetti che si sottrae alla legge. Per esempio, qual è il cristiano che processerebbe il suo Dio per la strage di Sodoma e Gomorra? Qual è il cristiano che processerebbe il suo Dio per il massacro del diluvio universale? Cioè nessun cristiano processerebbe il suo Dio. Ebbene, per la nostra legge civile questo non è possibile. Cioè non esiste un soggetto che possa fare delle cose al di fuori della legge, cioè che non sia sottoposto alla legge. E questa contrapposizione è una delle più gravi contrapposizioni sociali che noi abbiamo. Cioè da un lato abbiamo cristiani che si sottraggono alla legge, cioè non vogliono essere processati, vogliono fare delle cose che sono dei reati, ma che non siano processabili. E mettono in atto delle strategie per ottenere questo. Per esempio, quando noi abbiamo una sentenza giudiziaria che si conclude con la prescrizione. La prescrizione non è una soluzione, ma è una condanna. Cioè chi va in prescrizione, chi ha la prescrizione, ha una condanna. Non ha una soluzione. L'unica cosa che la prescrizione è diversa da una condanna è la pena inflitta. Cioè la prescrizione dice che il reo che ha commesso quel reato, per cui che è colpevole di quel reato, non può essere perseguito perché è passato troppo tempo dalla commissione di quel reato. Quando Andreotti è stato prescritto la sua partecipazione all'organizzazione mafiose, non è che Andreotti sia stato assolto. Andreotti ha partecipato all'attività mafiosa, solo che è andato in prescrizione. Cioè la legge dice, fino a una certa data abbiamo le prove che Andreotti è stato un mafioso. Dopo quella data non abbiamo più prove per stabilire che Andreotti è un mafioso. Dunque, per il tempo che Andreotti è considerato un mafioso, va in prescrizione. Il suo reato viene prescritto. Ma non è che Andreotti non sia stato un mafioso. La corte riconosce che è un mafioso perché se non avesse riconosciuto che è un mafioso lo avrebbe assolto. Allora sarebbe stato il decreto di assoluzione. Pertanto ogni volta che c'è una dichiarazione di prescrizione, c'è una dichiarazione di colpevolezza. E la colpevolezza ha anche dei caratteri morali e ha dei caratteri per cui le persone civili possono indignarsi. Cioè, in fondo si può riconoscere che quella persona aveva talmente tanti soldi da far schifo, ha mosso talmente tanti legali e talmente tanti interessi da mantenere il processo tardi nel tempo e non subire una condanna per il suo reato. Cioè fa ancora più schifo questo, perché il poveraccio non ha queste possibilità, mentre il potente e il ricco ha queste possibilità. Però non esiste un soggetto che si possa considerare esterno alla legge. Nel nostro ordinamento sociale questo non esiste. Pertanto non esistendo questo, noi abbiamo i cristiani che identificandosi col loro padrone, cioè col loro Dio, pur commettendo reati gravissimi, pretendono di non essere processati. Ma questa dichiarazione che ha fatto il governo USA di non processare Ratzinger è una dichiarazione di colpevolezza. Perché se Ratzinger fosse stato innocente, parla del fatto che non era innocente perché i documenti c'erano e sono nero su bianco. È come quando è stato assolto il vescovo del Rwanda dal reato di genocidio. Sì, il vescovo è stato assolto perché facciamo puntini, puntini, puntini perché Voitila ha mosso cani e porci per riuscire a ottenere la soluzione. Per cui lasciamo i puntini. Ma le prove portate al processo sono dei dati reali. La Caritas ha comperato 8.000 macete che sono serviti per il massacro. E c'è poco da dire che la Caritas non sapeva a cosa servivano quegli 8.000 macete. perché tutti gli elementi che stavano portando al massacro erano ormai evidenti danni. Che poi non pensassero che in pochi giorni si potessero macellare 800.000 persone, beh, questo appartiene alle favole che i cristiani raccontano. Pertanto noi abbiamo un Ratzinger che è colpevole di stupro di minori. È colpevole di aver fatto ciò per cui lo si accusa. E si sottrae al processo solo perché lui ha una carica di Stato. Perché lui non si chiama Noriega, non si chiama Saddam. E non può portare agli Stati Uniti gli interessi di Noriega e di Saddam. Ovviamente questo. Pertanto fa ancora più schifo questo. Cioè non solo sei responsabile di aver stuprato bambini ma ti nascondi come un topo di fogna dietro a una carica politica. E questa è una vergogna. Cioè è effettivamente lo squallore di essere un seguace del macellaio di Sodoma e Gomorra. Veramente. E' squallido. Poi ne abbiamo un altro articolo. E abbiamo Il Vaticano copre uno stragista. Sempre lo stesso pagino giornale 21 settembre 2005 La Repubblica di ieri. La Chiesa Cattolica lo sta proteggendo. Ha portato la vicenda di fronte al Vaticano che rifiuta totalmente di cooperare. Navarro A nostra richiesta di darci le sue prove i suoi indizi la signora del ponte non ha risposto in alcun modo. Ebbene questo personaggio un croato un accusato di crimini di guerra viene protetto direttamente dalla Chiesa Cattolica. Perché? Perché la Chiesa Cattolica sta continuando la guerra contro gli ortodossi. In Jugoslavia la Chiesa Cattolica ha cominciato la guerra contro la Repubblica Jugoslavia attraverso l'operazione Međugorje. L'operazione Međugorje fu una dichiarazione di guerra da parte della Chiesa Cattolica alla Jugoslavia. Tutto il resto è derivato dall'operazione Međugorje. Fate un po' voi siamo davanti allo stragismo puro e semplice. naturalmente gli articoli sono sulla Repubblica di ieri cioè il 21 settembre oggi sono in trasmissione il 22 oggi è giovedì non è colpa mia se tutti i giorni e in tutti i periodi escono articoli del genere date le infamità messe in essere dalla Chiesa Cattolica per ordine del suo Dio e per ordine del pazzo di Nazareth. Perché questo è il senso vero delle cose. Per cui ricordatevi che adorare il macellare di Sodoma Comorre e adorare il pazzo di Nazareth in realtà in questo paese è un reato anche se lo Stato non procede penalmente perché perché finché ciò appartiene all'intimo delle persone all'interno della religione cattolica e lo Stato può non procedere. purtroppo lo Stato dovrebbe procedere rispetto a tutti quei criminali che espongono il crocefisso al fine di stuprare i bambini costringendoli in ginocchio davanti al crocefisso laddove il crocefisso non è all'interno delle strutture della Chiesa Cattolica. Quello sì che è un reato un reato di evasione dell'ordine costituito però le complicità all'interno delle istituzioni che la Chiesa Cattolica sono talmente forti da sputare sulla legge civile. E questo è una cosa di cui bisogna prendere atto. in realtà non è tanto chiedere l'intervento della magistratura non è tanto chiedere l'intervento delle istituzioni o delle autorità ma è far nascere all'interno del paese un moto di rivolta rispetto a tutti quei comportamenti che sono illegali che sono giuridicamente dannosi in seno alle persone in modo che le persone cominciano a rivendicare la giustizia e cominciano a rivendicare le proprie norme le proprie leggi se non succede questo moto di rivolta questo moto di richiesta di giustizia a livello popolare in realtà possiamo riconoscere che giuridicamente le cose stanno così ma difficilmente le istituzioni e i magistrati si muovono perché? perché la quantità di provvedimenti da prendere rispetto alla gravità dei reati in funzione della situazione sociale porta a delle opportunità porta anche i magistrati a fare delle scelte pertanto deve nascere un movimento di protesta un movimento di richiesta di giustizia dalla società civile va bene allora siccome io ho troppe cose da fare e non riesco a fare tutte lasciamo perdere un po' il cattolicesimo cristianesimo che purtroppo stanno devastando la nostra società civile